benvenuti alla festa più bella dell'anno senza albero di natale spaccato ogni sera un grande film anche in prima visione per stare tutti insieme benvenuto al nord e se sei cliente sky da almeno un anno in regalo per te sky on demand con oltre 700 film da vedere quando vuoi per non perderti proprio niente della festa tutto il bello del natale quest'anno vivilo su sky cinema